Qualcuno ci chiama, ci dice che il porto di Durazzo è aperto. E io ho seguito la folla, senza rendersi bene conto a quello che si andava incontro. In dieci minuti eravamo in diecimila. Mio marito mi chiede, ce la fai a salire con la corda? Sì. Noi vedevamo le tv italiane, tutti parlavano l'italiano. Era come un tipo di finestra da dove noi guardavamo per guadagnare la nostra libertà. Abbiamo cominciato a gridare Italia, Italia, Italia. Scappare era una parola grande perché comunque era pieno di polizia, di carabinieri. Facevano tutti il segno della vittoria e io pensavo, ma che cosa hanno vinto? Forse hanno vinto il viaggio di ritorno. Grazie. 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 Grazie.